Ciao! Perché fai così? Scusami, non volevo spaventarti. Non pensavo che fossi a casa. Sono appena arrivato. Non sapevo che venissi anche tu qui. Non sono andata a giocare a golf oggi. Faceva troppo freddo. Com'è andata a golf oggi? Non sono andata a giocare a golf. Sì, fa più freddo oggi. No, voglio dire, fa troppo freddo per la stagione. Troppo freddo. Sì. Non dovevi andare a moto. Sì, ci sono andata. E com'è andata? È andata bene. Bravo. Sì, ho notato bene oggi. Bravo. Sai, penso che potrei fare i 50 se... Insomma, non lo so, migliorasse un po' con i tempi. Allora ti risultano un po' di più. Sono un po' con i tempi. E questo è il fatto. Comunque... Ho preso 74 in trigonometria. 74? Sì. Pensa che io ero pessima in trigonometria. Perché? Hai studiato anche tu trigonometria? Aspetta, l'ho studiata. No, forse... forse no. Comunque, ti ho comprato due camicie. Lo lasciate sul vetto. Sì. Sì.